torta grisby mai vista prima esatto mi sono ispirata a questi non ho voglia di impastare a mano quindi uso questa ma potete fare l'impasto tranquillamente a mano farina fecola cacao lievito vanillina e burro in pasta zucchero uova in pasta due colpi sulla spianatoia e poi riposo per un'ora metti metà impasto in teglia premi con le mani per formare il fondo e giù di nutella mettine quanta ne vuoi e poi copri con il resto dell'impasto 180 gradi poi sforna da fredda toglila dallo stampo decorala con cacao e grisby la felicità pura avrebbe il nome di questa torta molto comodente